buongiorno a tutti e benvenuti sul mio canale come potete vedere io sono un appassionato di videogiochi quindi di console la maggior parte retro come vedete PlayStation 1, PlayStation 2, Xbox 360, PSP, Wii mi appassionano un po' tutte e ho deciso di fare di questa passione un hobby secondo lavoro quindi io acquisto console usate le smonto completamente le ripulisco le rimonto e poi le mod quindi installo le mod per poter leggere roms quindi videogiochi da hardware esterni quali hard disk usb stick e così via ho sempre cercato video per riparare le console così via in quanto io non sono un tecnico e ho sempre trovato video maggiormente in lingua inglese quindi ho deciso di creare dei video completi in lingua italiana per ogni console su cui lavoro spero che questo possa aiutare altri appassionati come me nei miei video metterò i link per le attrezzature i materiali di pulizia che utilizzo i link dei miei canali di vendita se vi dovessero piacere i miei video e li dovesse trovare interessanti vi chiedo di mettere un mi piace e iscriversi e iscrivervi al mio canale ringrazio a tutti e adesso partiamo con con la console di oggi amici di salvo gamer bentornati oggi vi farò vedere come effettuare una soft mode quindi una modifica software anna xbox classic quindi la prima serie di xbox utilizzando una usb stick quindi riusciamo a incidere la memoria tramite usb stick quindi quello che occorre sostanzialmente è la nostra xbox classic non moddata quindi senza alcuna mod interna una usb stick da 512 mega fate bene attenzione funzionano solo le 512 megabyte non utilizzate usb stick di dimensioni superiori io ho già provato con un giga 4 giga e 32 giga non riesce a leggerle la console quindi occorrono da 512 mega oltre alla chiavetta quindi la usb stick serve il cavo adattatore della console è un cavo con da un lato il connettore per il controller e dall'altro lato il connettore per la usb stick questo andrà inserita al posto di un controller in modo che la console possa leggere la usb stick e un dvd meno r vergine dove dovremo andare a scrivere dei dati questo è il materiale occorrente ora passeremo al pc dove farò vedere quali sono i software necessari ovviamente ci saranno dei software che ci occorrono per fare tutta la modifica quindi ci vediamo tra poco sul pc bene eccoci sul pc ora vi faccio vedere l'occorrente come in quanto a software e così via c'è una cosa da aggiungere che adesso vi farò vedere non l'ho detta prima a banco perché vi voglio far vedere bene di cosa parlo e darvi delle spiegazioni chiare quindi apriamo il nostro il nostro browser di navigazione il cavo che vi ho fatto vedere a banco adattatore per xbox da controller a usb lo potete trovare anche su aliexpress o amazon vedete il cavo è questo non ha un costo eccessivo è un cavo che trovate abbastanza facilmente questo vi occorre è essenziale prima di andare a parlare dei software necessari aggiungo che vi occorre un gioco originale xbox ci sono quattro giochi originali quindi quattro games originali della xbox che possono funzionare per lanciare la mod in sostanza questo gioco è necessario per utilizzare l'ex tua e lanciare la mod e poterla poi installare nella rivista della console il gioco più semplice da trovare solitamente è tom clancy splinter cell questo vi occorre il gioco originale nel senso il primo splinter cell tom clancy nessun altro splinter cell deve essere la prima versione del splinter cell in questo caso in questo tipo di gioco funzionano tutte le varianti quindi l'etichetta nera classica xbox o anche l'etichetta silver quindi versione platinum qui non abbiamo problemi prendete bene nota dei consigli che vi sto dando ora sui giochi perché ci sono ci saranno delle varianti tra i giochi che andrò ad elencare quindi sono varianti importanti per tom clancy ripeto deve essere tom clancy splinter cell quindi il primo nessun altro è l'unico che può funzionare dopodiché un altro gioco che può essere utilizzato è tony hawks pro skater 4 anche in questo caso tutte le versioni del gioco funzionano che sia nera che sia silver non avete problemi quindi va bene una versione qualsiasi anche lui è abbastanza semplice da trovare come vedete poi ovviamente vi metterò i link di questi che ho trovato io voi siete libri di cercare su altri siti e così via io vi metterò quelli che ho trovato oltre a tony hawks possiamo utilizzare meccasolt la prima versione di meccasolt qui bisogna fare attenzione perché solo la versione con banda nera quindi la versione normale classic funziona qui non funzionano le versioni platinum quindi meccasolt non va bene le versioni platinum solo cd nero fate molta attenzione altrimenti l'espload non funziona ultimo gioco menzionato per la modifica è 007 agent under fire per questo funzionano tutte le versioni etichetta nera quindi classic di xbox e attenzione una sola versione del platinum funziona per funzionare la versione platinum deve avere sul disco il codice 1 4 4 8 5 1 7 questa è l'unica versione platinum di 007 agent under fire che può funzionare come ex tua per lanciare la modifica altrimenti qualsiasi versione black quindi etichetta nera classica prendete bene nota di questi giochi poi durante il video della modifica ovviamente vi farò vedere come viene lanciata la modifica l'espload in base al gioco che state utilizzando io sinceramente utilizzerò splinter cell quindi io poi avvierò con splinter cell ora partiamo invece con i software necessari sono più di uno ovviamente quindi in primis ci servirà l'xmo l'xbox scusatemi soft modding tool quindi che trovate alla pagina di rocky five xbox soft modding tool ci sono più versioni disponibili potete scaricare la versione normale non pre build diciamo che quindi poi dovrete andare ad estrarre da soli e così via ci sono dei file di cui bisogna occuparsi con questa versione ovviamente potete scaricarla cliccando su code e download zip ma se non volete diventare matti la cosa più semplice è scaricare direttamente la versione pre built che è questa a questo link adesso la scaricheremo che ha già tutti i file pronti quindi dovrete solo prendere i file fare alcuni lavori ma molto meno rispetto alla versione base e andare a mettere tutto sulla usb quindi noi andiamo a scaricarci già questa versione basta cliccare la freccia verso il basso per aprire il menu a tendina qua di fianco e facciamo scarica e lui comprimerà tutti questi file in un unico zip e avviera al download un altro software che ci serve che è essenziale è questo andiamo in giù ed è explorer explorer 360 v 0.9 beta 6 a cosa serve questo software serve per caricare i dati dentro alla nostra usb stick perché perché la usb stick per essere letta dalla xbox deve essere formattata dalla console stessa quindi noi dovremmo inserire la nostra usb stick prima di iniziare a caricare i file nella xbox farla format formattare con il sistema il linguaggio macchina diciamo della xbox e dopo di che dovremmo reinserirla nel pc per caricare i dati una volta formattata con sistema xbox il pc windows non la vedrà più la chiavetta la vedrà come un device non utilizzabile e difatti vi farò vedere ci chiederà di formattare appena le inseriamo se la riformattassimo torna windows e non funziona sulla xbox quindi dobbiamo lasciarla formattata per xbox a quel punto siccome windows non la può più vedere e non ci farebbe caricare dentro nessun file dobbiamo usare explorer 360 v09 beta 6 che ci consentirà di caricare i file dentro alla chiavetta quindi all usb stick formattata xbox nel caso non funzionasse questo software potete scaricare fat explorer però inizialmente io vi darò il link di entrambi ovviamente ma io partirò utilizzando in primis questo che è quello più corretto diciamo è più semplice da utilizzare dopo di che nel pacchetto che abbiamo scaricato della soft modding ci sarà un extras un file extras che ha delle funzioni addizionali da poter aggiungere alla modifica che altamente suggerito quel file extra è un iso ed ecco il perché ci servirà un dvd meno r quel file extra andrà scritto su un dvd come file immagine e dopo di che andrà lanciato sulla console dopo averla moddata per installare gli extras quindi per fare questo ovviamente ci servirà un software come image burn io utilizzo image burn potete utilizzare un qualsiasi software in grado di scrivere file immagine o quindi punto iso su dvd quindi può essere nero alcool qualsiasi software voi abbiate in dotazione o già disponibile può andare bene se non avesse alcun software io vi lascerò ovviamente il link di mg burn a fine modifica è una buona prassi farsi un backup della iphone della della console perché perché noi con la moda andremo a modificare la iphone della console quindi a fine modifica è cosa saggia fare il backup della iphone facendo il backup della iphone noi faremo il backup sia della iphone originale pre modifica che della iphone dopo modifica per fare questo lo dobbiamo fare online in rete quindi avremo bisogno di connettere la nostra console a internet e dopo di che dovremo connetterci alla console tramite rete vi consiglio di utilizzare win scp ovviamente anche questa procedura ve la farò vedere nel video quindi questi sono i software a noi necessari quindi adesso io andrò a scaricare anche xbox 360 qui per scaricare dovete cliccare enable download 1 quando la finestra avrà caricato chiudete attendete che si accenda secondo pulsante download non è acceso finché non abbiamo sbloccato i primi due step quindi download adesso adesso possiamo scaricare il file se non dovesse partire il download qua vi dice di cliccare qui di fianco col destro del mouse quindi cliccare su here destro del mouse e salvare link con nome vi dirà dove volete salvare il file zip vi chiederà dove volete salvare file zip io lo carico sempre nel download schiaccio clicco salva e lo vado a scaricare la protezione di windows a volte questi tipi di file ve li blocca anche perché sono file exe così via eseguibili noi gli diciamo conserva perché a noi questo file occorre non scaricherò per il momento fatto explorer perché voglio provare prima con xbox 360 non scaricherò image burn perché io ce l'ho già installato scaricherò win scp perché io non ce l'ho ancora quindi andiamo alla pagina di download e andiamo su questo link eccolo qua quindi come vedete abbiamo scaricato i nostri tre file necessari per la modifica ora possiamo abbassare la finestra del browser andiamo sul desktop apriamo la cartella download ed andiamo a a metterci sul desktop i tre file che abbiamo appena scaricato ecco qua come vedete due file sono cartelle compresse zip un file invece già l'eseguibile quindi questo io lo sposto già qui non devo fare niente per il momento questi due invece dovremo andare ad estrarre quindi vi occorrerà un software di decompressione io utilizzo un winrar potete utilizzare un software qualsiasi possa essere winzip 7 zip qualsiasi software va bene io ora clicco col destro del mouse e clicco estrai in explorer e lui mi estrarrà la mia cartella stessa cosa la faccio con il softmoding tool questa 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 è la softmod sostanzialmente l'andrò ad estrarre ci metterà un po ovviamente i file dentro sono abbastanza e adesso che abbiamo estratto tutto io mi prendo i miei due file zip e me li butto via perché così mi li tolgo questo xbox explorer come vedete solo un eseguibile che servirà per poter caricare i file nella usb stick questo è il nostro pacchetto per la modifica siccome a me le doppie cartelle non piacciono io mi tiro fuori cartella qui questa ormai sarà vuota Vedete che vuote quindi io questa me la butto via perché non mi interessa ecco qua così abbiamo già la cartella senza la sottocartella di build ma abbiamo le sottocartelle con i file necessari abbiamo già tutto quello che ci occorre in questa in questa versione se avessimo avuto la versione base avremmo dovuto estrarre vari file tipo softmoding tool avremmo dovuto creare noi la cartella il file iso per gli estra avremmo dovuto creare noi la cartella e così via noi invece abbiamo già tutto pronto perché siamo andati a scaricare la versione quella quella pre built l'unica cosa che dobbiamo fare è estrarci questo tool zip quindi estraiamo questo ecco qua siamo all'interno è già pronta andiamo quindi torniamo indietro per far vedere bene i passaggi abbiamo estratto la softmodding tool zip ci andiamo all'interno andiamo in softmodding package e qui abbiamo dei file zippati questi file sono sostanzialmente dei salvataggi dei giochi di cui vi ho parlato prima che servono per far partire l'esplua quindi servono da esplua per far partire la modifica in sostanza e uno è il file della modifica quello che dobbiamo fare è estrarci i file di questi nostri giochi per poi andarli a caricare come file di salvataggio sulla usb stick quindi destro del mouse estrai qui lui creerà ora una cartella aiutata dove andrà a mettere tutti i nostri file che sono dei salvataggi come dicevo facendo estrai qui evito di creare cinque cartelle perché i file che abbiamo bisogno sono cinque per ogni per ogni gioco una cartella per ogni gioco diciamo che in totale sarebbero cinque facendo estrai qui io andrò a inserire tutti i miei cartelli e i miei file scusatemi in una singola cartella aiutata abbiamo estratto 007 possiamo andare a estrarre splinter cell questo è splinter cell noi siamo in europa quindi versione pal quindi estrai qui lui andrà a inserire i file nella cartella aiutata questo è tony hoax pro skater 4 anche qui andiamoci a prendere il pal estrai qui e me lo andrà a mettere lì dentro questo è meca salt metal arm quindi andiamo a estrarre anche questo sempre estrai qui e mi andrà a mettere i file dentro la aiutata come vedete ora abbiamo i quattro giochi 1 2 3 4 ultimo è il soft mode quindi andiamo a cercare soft mode save eccolo qua estraiamo e anche questo adesso è dentro la nostra cartella ecco qua noi abbiamo i nostri cinque file necessari per la modifica questo è tutto quello che ci occorre per quanto riguarda l'usb stick ovviamente se come suggerisco io anche voi voleste utilizzare gli extras a quel punto andiamo nella cartella extra disk avete già il file iso pronto per il per essere scritto su dvd e andiamo a preparare il dvd per poter avere anche gli extras quindi adesso inserisco il mio lettore nella computer e inserisco il dvd per la scrittura e vi faccio vedere come avviare la scrittura ecco qui ho agganciato il mio lettore masterizzatore ho inserito già il dvd adesso ci andiamo ad aprire image burn write image file to disk quindi scrivi file immagine su disco andiamo a selezionarci il nostro file immagine che quindi è in build extra disk e questo è il nostro file iso qui di fianco nelle specifiche andiamo a vedere a quale velocità minima può scrivere il nostro lettore ed impostiamo la velocità minima di scrittura quindi il mio può scrivere a 4x come velocità minima e io metterò 4x una volta che abbiamo tutto pronto come vedete la destinazione sarà il mio dvd lui l'ha già identificato ha già identificato il mio lettore masterizzatore la cartella ne l'abbiamo detta la velocità l'abbiamo impostata e clicchiamo sul pulsante write quindi scrivi ed attendiamo che lui abbia scritto il dvd come vedete ora ha finito di scrivere il nostro dvd ha tirato fuori in automatico lo sportello questo errore lo dà solo perché dice che non riesce a chiudere automaticamente lo sportello del lettore ed è normale perché ovviamente il mio lettore è esterno quindi ed è con sportellino manuale quindi diamo l'ok chiudiamo image burn ci chiede se vogliamo salvare il progetto effettuato a noi non interessa quindi schiacciamo su no scusatemi chiede se vogliamo cancellare dovremmo schiacciare su si scusatemi e adesso possiamo chiudere anche image burn siamo quasi pronti per partire con la modifica ultima cosa che manca è caricare i file sulla usb stick ma come dicevo prima di tutto dobbiamo andare a collegare la usb stick alla nostra xbox per farla formattare nel linguaggio corretto diciamo quindi mi collego un attimo l'xbox vi faccio vedere come deve formattare la usb stick e poi torneremo sul pc per caricare i giochi per caricare scusatemi i file necessari eccoci qua come vedete la mia console è collegata abbiamo già tutto all'interno quindi il controller i cavi video e alimentazione la console è pronta ora l'avviamo qui schippiamo tanto mi chiede solo di regolare l'orologio adesso che siamo in questo punto andiamo a inserire il nostro cavetto la prima porta libera in questo caso io uso la 2 e adesso andiamo a inserire la usb stick dentro al connettore dell'adattatore una volta inserito anche l'usb stick andiamo su memoria se non dovesse rilevarla al primo colpo potete staccare e reinserire ecco qua lui ha rilevato che ho inserito un usb stick e dice la memory unit che ha inserito non funziona correttamente è stata formattata deve uscirvi questa scritta se non vi dovesse uscire questa scritta vuol dire che la vostra usb stick non riesce a essere riconosciuta dalla scusatemi dalla console e non riesce a formattarla quando esce questa scritta vuol dire che la usb stick va benissimo quindi è stata formattata per xbox schiaccio ok se vogliamo essere sicuri possiamo staccarla e riattaccarla come vedete la rileva velocissima quindi vuol dire che è a posto ora possiamo spegnere la nostra xbox e torniamo sul pc eccoci tornati sul pc adesso inserisco la mia usb stick nel pc e vi farò vedere cosa succede ecco qua come vi dicevo la prima cosa che dice il pc è formattare l'unità perché non è usufruibile da windows dovete ovviamente chiudere la finestra o comunque cliccare su annulla non dovete riformattarla deve essere formattata xbox a questo punto ci andiamo a aprire il nostro explorer 360 lo eseguiamo qui andiamo su drive posso anche ingrandire la finestra un pelino vediamo se riesco a ingrandirla un pochino giusto per farla vedere meglio ecco qua così dovreste vederla meglio quindi clicco su drive clicco open e su open vado a dirgli hard drive or man card lui troverà la mia usb partition 0 la seleziono e adesso mi vado ad aprire la mia cartella dei file che abbiamo preparato quindi scusatemi dei salvataggi dei giochi che servono come exploit per il lancio della mod quindi apro la cartella vado in xbox softmodding tool vado in softmod package apro la mia cartella udata e da qui sposto dentro alla partizione 0 della usb stick tutti i miei file uno alla volta come vedete lui sposta i file ecco qui questo è la cartella della modifica proprio come vedete è più grande di dimensione ci ha messo un attimino di più quelli che fa dove ci mette poco tempo sono i salvataggi dei giochi qui abbiamo all'interno i nostri 5 file volendo per essere più sicuri possiamo chiudere softmodding tool eh scusatemi explorer togliamo la chiavetta quindi il usb stick la reinseriamo andiamo a rilanciare explorer ancora drive open hard drive on mem card partition 0 e abbiamo i nostri file qui col pc abbiamo ultimato ora possiamo spostarci sulla console e andiamo ad effettuare la modifica bene siamo pronti ora vado ad inserire la mia usb stick nella xbox avvio la console una volta che siamo nella pagina iniziale della console con il controller ci spostiamo ancora su memoria A per entrare comunque vedete di solito l'isbosso vi dice già lei cosa dovete cliccare andiamo su controller 2 che nel mio caso è la usb stick come vedete adesso ci sono tutti i nostri salvataggi quindi quello che facciamo andiamo in un gioco alla volta e spostiamo i salvataggi sull'hard disk per spostare i salvataggi selezioniamo il gioco e poi ci spostiamo a destra per selezionare il salvataggio non da qui ma da qui quindi questo è quello che noi dobbiamo andare a spostarci sull'hard disk e lo facciamo per tutti i giochi questo è un suggerimento ovviamente voi utilizzerete poi un gioco come farò io nel mio caso come ho detto è splinter cell ma spostiamo tutti i file quindi copia su disco rigido ok indietro prossimo gioco qui sono due file li copierò entrambi copia su disco rigido in ultimo il soft modding tool quindi il nostro file di modifica qui come vedete il file è di dimensioni superiore ci metterà un attimino di più bene per ora abbiamo quasi ultimato nel senso abbiamo preparato il nostro hard disk quello che dobbiamo fare adesso è inserire il nostro gioco e seguire le istruzioni che vedrete tra poco a video per lanciare l'expload e far partire la modifica io vi farò vedere vi metterò un video con la spiegazione di come si lanciano tutte e quattro gli explora quindi per i quattro giochi di cui abbiamo parlato all'inizio del video per sprinter cell dovete cliccare su avvia game e poi selezionare linux per mechassault dovete selezionare campagna e avviare linux per toni hawk dovete andare su costruisci parco premere start andare to load park cliccare yes e cliccare su hack xbox per 007 dovete selezionare missione avviare la prima missione quindi quando l'elicottero appare nello schermo cliccate start chiudere missione e schiacciare su e adesso andate indietro andate su load mission quindi carica missione e cliccare su xbox hard disk ecco qua sono pronto con i dvd torno indietro alla pagina iniziale xbox perfetto apro il carrello inserisco il mio dvd io utilizzo sprinter cell quindi andrò a utilizzare la procedura per lanciare sprinter cell per sprinter cell dobbiamo fare inizia partita e dobbiamo selezionare il profilo linux che vedete lì di fianco come vedete è già selezionato checkpoints e lui parte con l'installazione della modifica come avete visto il gioco serve solo come x plus a per partire la modifica niente di che quindi qui è la pagina iniziale della modifica vi ringraziamo per soft aver scelto soft modding tool e così via quindi qui noi schiacciamo su a e lui inizia a caricare la soft mode ad un certo punto tenete presente che la console si riavvierà nel momento in cui andremo a far riavviare la console dobbiamo aprire subito il dvd e toglierlo il gioco va tolto quando riparte la console vedete adesso dice che deve fare il reboot quindi gli diciamo parla della apron qua dice che sta scrivendo la apron ci spiega cos'è la apron e qui adesso ci riavviera la console ecco qua togliamo il dvd qui sta e qui siamo nella pagina iniziale della nostra soft mode la console in questo momento è moddata sostanzialmente come vedete la pagina iniziale della soft mode non è un granché quindi noi possiamo anche andare a modificare in primis possiamo andare a modificare il menu di avvio in modo che sia come preferiamo noi può essere un menu simile a quello dell'Xbox o un altro menu quindi cosa facciamo adesso ci spostiamo su system ci spostiamo su skins ed andiamo a scegliere una skin a nostro piacimento possiamo scegliere la default che è la skins originale della Xbox in sostanza o possiamo andare a scegliere un'altra skin tra quelle presenti qua io per adesso sceglierò la default così siamo in qualcosa che tutti comprendiamo meglio ma ovviamente poi testerò anche le altre skin per vedere come sono quindi select to save quindi adesso questa è la pagina iniziale sostanzialmente della Xbox possiamo andare indietro e qui abbiamo tutte le nostre funzioni quindi abbiamo il sistema on brew abbiamo le stesse cose che avevamo nella prima schermata della console quando si è avviata un'altra cosa che può avvenire quando abbiamo installato la modifica e applichiamo la skin è che lo schermo non sia centrato come vedete infatti non è centrato il mio schermo in questo momento quindi andiamo su setting scusatemi su system quindi settings e adesso andiamo a cercare screen calibration spostiamo il nostro schermo per calibrarlo seguite l'istruzione a video con i tasti dietro LT e RT possiamo selezionare l'angolo che vogliamo ampliare quindi LT superiore destro RT inferiore scusatemi LT superiore sinistro RT inferiore destro e lo potete adattare totalmente al vostro schermo ecco qua nel mio caso ora è fatto e schiacciate su start per salvare adesso possiamo andare completamente ancora indietro come potete sentire non c'è nessun audio cioè quando andiamo a installare la nostra mod è priva degli audio principali che di solito avrebbe la console Xbox qua entra in gioco il nostro dvd degli extras possiamo andare a riattivare gli audio quindi cosa facciamo inseriamo il nostro dvd extras questo è il dvd che abbiamo appena masterizzato lo inseriamo chiudiamo lo sportello e andiamo su su lancia launch disk e selezioniamo app lui adesso lancerà il disco e andrà dentro ai nostri extras adesso per installare i nostri suoni andiamo su dashboards ms dashboards selezioniamo install install scusatemi e schiacciamo yes diamo ok e lui adesso installerà il dashboard come vedete adesso vi apre la finestra chiedendovi se vogliamo installare gli audio ovviamente gli diamo yes ecco qui ha finito l'installazione anche del dashboard basta schiacciare su ok e adesso possiamo tornare indietro indietro ovviamente ci sono tante altre cose da poter installare dagli extras queste sono queste sono tutte dashboard da poter installare per quanto riguarda invece così sono dashboard della console quindi per le schermate e così via per quanto riguarda invece le applicazioni sono in application quindi in application abbiamo poi quelli che vi dicevo prima l'eprom backupper e così via e i dvd xbox queste sono tutte app che possiamo andare installare e poi provare nel disc extras c'è anche l'enter menu con l'enter menu possiamo fare l'update dell'xbox softmoding tool possiamo tornare possiamo fare upgrade sul old softmod possiamo tornare ai default settings quindi alla console originale e poi abbiamo altre cose come avanzate e così via ma qui bisogna andare veramente con cautela quindi io qui non toccherò nulla per tornare al menu della mod è abbastanza estrarre il dvd quindi estraiamo il dvd e la console tornerà al nostro menu principale ecco qui questa è la nostra console ora con tutto quello che abbiamo ovviamente installato vediamo se c'è qualcosa in games per il momento è vuoto emulators per il momento è vuoto allo stato attuale la nostra console è completamente moddata abbiamo effettuato i set iniziali diciamo non andiamo oltre quello che faremo oltre lo faremo in altri video separati così il video non diventa troppo lungo una cosa importante che dobbiamo fare ora è andare a ci sono due cose importanti sostanzialmente la prima è sbloccare l'hard disk nelle xbox gli hard disk sono accoppiati alla console cosa vuol dire ogni console ha un numero seriale e l'hard disk inserito nella console deve avere un numero seriale che combaci con quello della console quindi viene preparato in fabbrica sostanzialmente non potete andare a cambiare l'hard disk nella xbox se non avete lo stesso seriale della console quindi vuol dire non possiamo cambiare l'hard disk ma noi abbiamo una console moddata quindi perché non abilitare la procedura per cambio hard disk allora vi faccio vedere come si fa ovviamente se abbiamo una console moddata quello che andrò a fare io su questa console sarà caricare dei giochi in modo da lanciarli da hard disk quindi l'hard disk interno diventerà piccolo a un certo punto e dovrò per forza cambiarlo quindi bisogna sbloccarlo per sbloccarlo bisogna andare in applications andiamo a cercare nk patcher eccolo qua aspettiamo che si avvii qui andiamo su apron qui andiamo su advanced futures selezioniamo hard drive selezioniamo change aprom hdd key e lui vi dice che questo processo sbloccherà il vostro hard disk e diamo tutti gli ok ovviamente la master password vi dirà che sarà team assembly magari prendetevi nota di questa password da qualche parte in caso ve la dovesse chiedere adesso diamolo ok io ho preso nota ovviamente della mia password adesso lui riavvierà e tutto farà tutto un suo processo perché deve sbloccare l'hard disk e scriverà una password che sono tutti zeri quindi sarà null inesistente possiamo tornare indietro al menu principale della console come dice sotto exit lt più rt quindi due pulsanti dorsali i due posteriori quindi la sequenza per uscire dalle applicazioni dove eravamo prima quindi in sostanza ripetiamo eravamo qua dentro eravamo in nk 5patcher quello che dobbiamo fare è quando rientrerà aspettate un attimino eccoci qua lt rt il pulsante nero e select e lui riavvia la console e esce ora ultimo passo che andremo a effettuare sarà il backup dell'eprom originale della eprom modificata della console per qualsiasi evenienza come vedete io ho già collegato come avevo detto all'inizio lo faremo online quindi via network ho collegato il cavo di rete qui ci sono i dati vi faccio vedere come accedere ai dati della vostra console così potete prendere nota di tutti i dati necessari settings network e qui sono tutti i dati compreso user e password la porta è la 21 user xbox password xbox e poi ovviamente vi servirà il vostro ip adesso io prendo nota di questi dati perché poi mi serviranno sul pc per poterla collegare bene ora utilizzeremo sia la console ovviamente che il nostro pc quindi per il momento vedete lo schermo pc durante le impostazioni di win scp vedrete switchare tra schermo pc e schermo xbox perché andrò a copiare i dati quindi per prima cosa andiamo ad aprire win scp lo installiamo a copiare i dati ok come vedete si è aperta la pagina dove dobbiamo inserire i dati della nostra console quindi in primis dobbiamo andare a inserire l'ip quindi andiamo a scrivere l'ip della nostra console grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti La porta, nel mio caso, come vedete a schermo, è la porta 21 e poi gli useri passano Xbox Xbox, quindi per il momento dovrei aver finito con il far andare su e giù i due schermi. Salva e salva la password, quindi penso che abbiate visto, io ho cliccato qua sulla freccia in basso a destra salva e salva qua e spunto salva password, ok? E adesso clicchiamo accedi, lui si sta connettendo, quello che vedete a sinistra è il mio PC, quello che vedete a destra è la Xbox. Quello che possiamo fare è una nuova cartella sul desktop, ci scriviamo Xbox, nel mio caso, siccome, come sapete, vendo console, quindi acquisterò più console a cui effetterò la mode per poterle vendere, Ovviamente, al nome cartella, dopo ci aggiungerò il seriale esatto di questa console, in modo che avrò un archivio dell'eprom di tutte le console che andrò a vendere. Questa è la mia personale, ma poi ne farò altre per la vendita. Una volta che ho creato questa cartella, dovrei averla qua di fianco, ovviamente perché nel mio PC ero nella cartella documenti, invece qui dobbiamo andare sul desktop, ecco qua. E adesso qui dovrei avere la mia cartella Xbox, eccola. Quindi abbiamo la cartella Xbox, l'ho aperta, quindi siete voi che dovete andare a dire ovviamente dove si trova la vostra cartella. Come avete visto, potete andare a fare anche lo sfoglia cliccando qua sopra, gli dite desktop e poi andate a cercarvi dal desktop la vostra cartella Xbox. Questa, date l'ok, date l'ok e io sono dentro la cartella Xbox. Quello che dovremmo fare ora, è andare a selezionare la partizione dell'hard disk dove si trova la nostra apron. Quindi dovremmo selezionare il disco E, andare su backups, e su backups, destro del mouse e download. Lui vi dirà dove vogliamo scaricarla e vi dirà la vostra cartella che abbiamo appena selezionato. Se non ve la desse, andate a sfogliare perché dovete dirgli di salvarlo nella vostra cartella di riferimento. Date l'ok e lui ora ha salvato nel mio PC e qui l'eprom. Quindi questa è l'eprom originale e questa è l'eprom con il soft mode. Ovviamente se aprissi la cartella sul mio desktop è la stessa cosa. Epron, qua vedo l'eprom soft mode e qua l'eprom originale della console. Quindi penso che il passaggio sia abbastanza chiaro. Se no possiamo tornare nella cartella superiore, sia qui che qui. Qui andiamo a dirgli che dobbiamo andare sul desktop. Ci andiamo a selezionare la nostra cartella, doppio clic per aprirla. Qui selezioniamo il disco E che è dove salva l'eprom. In backups lo selezioniamo poi destro del mouse, download. E poi gli diciamo che ricontrolliamo che la stia salvando nella cartella che desideriamo. Una volta effettuata questa procedura abbiamo anche salvato tutti i dati dell'eprom della console. Che sono quelli della scheda madre in sostanza. Quindi siamo a posto. La nostra console è moddata. Abbiamo salvato i dati. E ora possiamo iniziare a goderci la console. Ovviamente adesso se io clicco chiusura mi chiede se voglio terminare la sessione. Spero che il video vi sia piaciuto, che l'abbiate trovato utile. Ho cercato di fare, di spiegare il tutto al meglio. Cercando di non dilungarmi troppo. Spero di non aver creato un video troppo lungo. Se vi fosse piaciuto il video appunto mettete un bel mi piace a questo video. E iscrivetevi al mio canale perché ovviamente, a parte tutti i video che sono già sopra al canale, per le altre console, attualmente PS2, PS1 e Nintendo Wii, andrò avanti a fare video per quelle console. Per questa attualmente ci sarà il video che abbiamo visto ora, che è per la mod, ma ovviamente caricherò video anche per l'Xbox, per come caricare giochi all'interno dell'hard disk, per come caricare emulatori e così via. per giocare giochi della Nintendo, della Super Nintendo e così via. Quindi, registratevi al mio canale per rimanere aggiornati. Vi ringrazio a tutti e vi auguro un buon weekend.